Accrescere le conoscenze e la consapevolezza della cittadinanza sulle tante opportunità offerte dall'Unione Europea. Questa è una delle finalità del centro Europe Direct Montagna Veneta, che ha sede presso il GAL Prealpi e Dolomiti. Proprio lo sportello di Borgo Valbelluna mette a disposizione della comunità, in tal senso, anche apposito materiale didattico liberamente fruibile. Presso il nostro centro Europe Direct è possibile richiedere una serie di pubblicazioni dedicate a più fasce di età e a persone che hanno interessi diversi su temi che riguardano l'Unione Europea. Una prima pubblicazione, ad esempio, è una breve guida all'Unione Europea, dove sono spiegati molto rapidamente, in maniera molto concisa ma anche molto chiara, tutti i temi che stanno attualmente riguardando l'Unione Europea e altre pubblicazioni invece che riguardano lo sviluppo di quello che è stato l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Quindi temi che riguardano sostanzialmente la normativa che poi va ad incidere sulle vite quotidiane di tutti noi. Conoscere l'ABC di tale Unione Economica e Politica, ma anche che cos'è il Green Deal europeo, i diritti e i benefici dati dall'appartenenza all'Unione, svariate le informazioni che si possono approfondire. È una piccola biblioteca accessibile a tutto il territorio, le pubblicazioni sono messe a disposizione dall'Ufficio Pubblicazione dell'Unione Europea e la finalità è proprio quella di divulgarle in maniera capillare a tutto il territorio e a tutti i cittadini interessati ai temi che riguardano l'Unione Europea.